Va in archivio la quarta edizione della Kermess sportiva Cilento Sport Festival, che ha visto tantissimi giovani cimentarsi nelle discipline sportive del calcio e del basket nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Viano e Alburni. Da Castellabate a Capaccio Pestum, da Agropoli e Roccadaspide, passando anche per la vicina Battipaia, giovani di ogni età hanno regalato spettacolo ed emozioni a tutti coloro, accompagnatori e non, che hanno seguito da vicino la manifestazione organizzata dalla Sud Eventi con il supporto dello sponsor tecnico Leggea e in collaborazione con la polisportiva Santa Maria 1932 e con la squadra Albatros degli Arbitri. Siamo per il quarto anno consecutivo ci proponendo questo format dove si abbinano un po' di sport, basket, calcio e volley, quindi facciamo tutti questi micro tornei per ogni disciplina e siamo soddisfatti perché i ragazzi si divertono, i genitori possono vedere al di là dei loro figli giocare, farsi un giro turistico per i luoghi che sono molto belli. Una bella esperienza per i ragazzi soprattutto in questo periodo dove le scuole sono chiuse, è un momento di aggregazione, fondamentalmente non ci interessa il risultato finale. Siamo contenti di partecipare a questo torneo che è ben organizzato, che involge diverse squadre ma c'è un vero spirito sportivo quindi siamo pienamente soddisfatti di aver partecipato a questo torneo. Comunque è stata una bella esperienza, è emozionante per noi ma soprattutto per tutti i ragazzi e i bambini. Oggi avete giocato? Sì, abbiamo vinto 35 a 10. In quale sport? Basket. Palla canestro, cercola, vi siete divertiti? Sì, è stato un bel torneo, bella partita. L'importante è che si divertano sempre, che giochino in maniera corretta, nel rispetto delle regole. Spettacolo sugli spalti perché comunque è disputata una partita ad armi pari in cui poteva vincere veramente sia l'una che l'altra squadra, in cui ha trionfato il divertimento e il rispetto delle regole. La prima cosa, almeno noi come società annola, pensiamo al divertimento. I risultati non contano, non guardiamo le classifiche, pensiamo solo alla crescita dei bambini, sia come educazione sia calcisticamente. Quindi per me è stata un'ottima finale, complimenti al SV Roma che ha vinto ma anche complimenti ai miei che hanno dato l'anima in campo. Sport e turismo sono un perfetto binomio in un territorio magico come quello del Cilento che offre ai partecipanti tutti gli ingredienti necessari per divertirsi e per conoscere posti unici. L'appuntamento ora nel sempre del Cilento dal 7 al 9 giugno con il torneo di calcio Benvenuti al Sud.